Torna a Napoli dal 20 al 22 maggio al Castel dell'Ovo Vitigno Italia, il salone dedicato ai grandi vini italiani. Giunto alla sua ottava edizione, il Wine Show punta l'attenzione sui vini e territori vitivinicoli del bel paese, sottolineando l'importante binomio tra vini e territorio. Vitigno Italia, quest'anno all'ottava edizione, al Castel dell'Ovo, cambia addirittura la denominazione, non più salone del vino da vitigno autottono, ma salone del vino e dei territori vitivinicoli italiani, quindi questo legame vuole essere evidenziato ancora in maniera più forte e la testimonianza è quella che ormai nessun prodotto della nostra terra può prescindere dalla sua cornice artistica e cornice storica. L'edizione del 2012 sarà fortemente improntata all'esportazione, cresce infatti l'export per il vino italiano di circa il 15%. Tante le novità di questa edizione. Per la prima volta Vitigno Italia metterà insieme le tre principali associazioni di sommelier italiane che gestiranno la sala degustazione nei tre giorni del salone. Il premio Vitigno Italia verrà segnato anche in base a nuovi parametri come il rapporto col territorio e l'età del produttore. Sono stati lanciati infine per la prima volta una serie di pacchetti turistici enogastronomici di Wine Tour e da segnalare inoltre l'importante incontro tra i vini delle isole del Golfo e il pesce azzurro del Tirreno per la valorizzazione del pescato locale. I prodotti della terra a Napoli sono importanti, l'agricoltura urbana, Vitigno Italia è un'iniziativa importante anche per far conoscere ai napoletani e non solo ai napoletani che si producono un milione di bottiglie all'anno di qualità e quindi anche con quantitativi importanti. Nella città di Napoli ci sono tantissime aziende agrituristiche, dai Camaldoli al Vomero a Posilli, Pagliastroni. Quindi è molto importante, noi stiamo valorizzando molto gli orti urbani, da quelli grandi ce ne sono già tre a quelli più piccolini, quindi questa è una strada importante perché si riscopre la natura, il rispetto della terra e poi si crea anche lavoro. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.vitignoitalia.it